Sono tre le scuole selezionate e premiate tra quelle che hanno aderito in questi tre anni alle attività di informazione e sensibilizzazione del progetto Life più Leopoldia. Ogni scuola ha prodotto un video, una presentazione in PowerPoint, oltre che cartelloni con foto e disegni che mirano ad aumentare la conoscenza della Leopoldia Gussonei e l'importanza di proteggere le nostre dune costiere. Le scuole premiate sono il primo comprensivo Albani Roccella, diretto da Rosalba Marchiciana, il liceo scientifico Elio Vittorini, presieduto da Angela Tuccio, e l'istituto comprensivo Leonardo Ciascia di Scoglitti della dirigente Giuseppina Spataro. Ad ogni istituto è stato consegnato un pannello del progetto con la speciale menzione, mentre ad ogni studente di tutte le scuole partecipanti è stato consegnato un attestato ricordo. Oggi chiusura della due giorni alla chiesetta San Biagio. Cosa si fa a stato guardare le coste? Bisogna pianificare tutto, lo sviluppo, l'economia, questo ci rimpone anche l'Unione Europea con direttiva anche recente, per cui è un percorso che viene da lontano, quindi abbiamo il dovere di farlo perché attraverso questo sistema noi tuteliamo anche le future generazioni, o altrimenti le future generazioni andranno via. Molte volte si è considerato che il territorio di Gela è quello che è racchiuso dal perimetro urbano, quando in realtà la sezione è molto più ampia. Ma il problema non è tanto direttamente dall'amministrazione, ma è un problema culturale, un problema culturale che deve essere più volte ripetuto per prendere quella coscienza che ci consente a tutti quanti di salvaguardare il nostro patrimonio. Valorizzare il territorio gelese è l'obiettivo che si è posto il convegno. Ci sono grandi potenzialità, grandissime, la costa è qualcosa di sconosciuto penso per i gelesi e questo progetto ha puntato proprio su questo, cercare di far conoscere le potenzialità agricole anche, oltre a quelle turistiche, quelle legate all'ambiente. Bisogna soltanto valorizzarle. L'ambiente della Piana di Gela con i siti di Rade Natura 2000, le riserve naturali è un ambiente straordinario sotto il profilo naturalistico. Per cui questi ambienti, questi ecosistemi eccetera possono favorire l'economia provinciale, l'economia territoriale eccetera sotto l'aspetto intanto culturale, sotto l'aspetto della conoscenza scientifica e sotto l'aspetto turistico. Purtroppo sappiamo che Gela ha avuto un'evoluzione in questi decenni di carattere industriale che indubbiamente ha portato posti di lavoro eccetera. Però da un punto di vista della salute pubblica, da un punto di vista della tutela del territorio è stata deleteria.